30 destra 4 5 4 3 2 1 vai 30 destra 4 30 destra 5 tieni e subito sinistra 3 subito sinistra 3 in sinistra 3 chiude 30 ritarda destra 2 ritardala bene destra 2 30 il cartello destra 4 tieni in sinistra 5 lascia in sinistra 5 lascia in sinistra 3 tieni eccola la 3 tieni in destra 3 tieni 30 sinistra 5 in array destra 4 lunga chiude 3 al segno chiude 3 al segno in sinistra 3 lunga tieni e subito destra 4 e subito destra 4 in sinistra 3 lunga chiude 2 in destra 2 lunga apre e al casottino ritarda sinistra 2 non perdiamo ritmo e dai 2 in destra 4 lunga chiude 3 al cartellino bello largo e stringi 50 e array sinistra 2 subito destra 4 e subito al cartello sinistra 2 chiude 50 sinistri e occhio ritarda destra 2 30 al cartellino destra 5 tieni subito sinistra 2 in sinistra 4 tieni 30 al giallo ritarda destra 2 20 alle zebre ritarda destra 2 50 sinistra 5 tieni subito allo specchio destra 3 eccola 50 ritarda sinistra 2 ritarda sinistra 2 subito destra 3 tieni in array in sinistra 2 lunga gira lunga gira in destra 3 tieni 20 all'albero destra 2 sporca 70 destra 5 tieni subito sinistra 2 lunga 5 tieni subito sinistra 2 lunga 20 a rail destra 2 lunga tieni lunga tieni 20 ritarda sinistra 2 lunga 2 lunga in alle zebre ritarda 2 destra 2 150 tutto giù e occhio là in fondo frena destra 4 sporca subito sinistra 2 lunga tieni volto un pochino più giù va bene dai gabri 30 ritardala bene alla casa destra 2 lunga lunga 2 lunga lunga no 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 in sinistra 4 lascia in al cartello sinistra 3 tieni 30 a rail destra 2 ritardala 2 in ritarda sinistra 2 2 2 sinistra 2 in destra 3 tieni 30 30 ritarda destra 2 lunga 50 ritarda sinistra 3 lunga lunga apre 4 3 lunga lunga apre 4 in occhio al zugro sinistra 4 tieni 20 e a rail ritarda a destra 2 chiude 2 chiude 30 30 visti destra 4 tieni 50 a rosso ritarda sinistra 2 eccola eh non perdiamo ritmo capri dai in sinistra 4 tieni 50 ritarda a destra 3 chiude 3 chiude subito sinistra 3 subito sinistra 3 in sinistra 4 lunga tieni in ritarda destra 2 in ritarda sinistra 2 lunga subito destra 4 lunga chiude 3 4 lunga chiude 3 subito sinistra 2 tieni in destra 3 tieni in sinistra 4 lunga tieni molto in ritarda destra 2 ritarda destra 2 bene così bravo Gabri dai in sinistra 4 lunga lunga tieni e subito destra 2 subito destra 2 e subito sinistra 3 20 al re in sinistra 4 tieni subito destra 2 subito sinistra 3 100 bravo così dai sinistra 4 tieni subito destra 2 chiude 2 chiude e subito sinistra 5 100 100 destra 5 20 al casottino occhio destra 2 lunga gira sporca lunga gira sporca bravo dai 100 tutto giù tutto giù sinistra 5 e al cartello 30 visti sinistra 4 tieni 50 al rei ritarda destra 2 chiude eccola qui eh sinistra 4 sinistra 4 lunghissima tieni la tutta fino in fondo 100 100 e al rei ritarda sinistra 2 lunga 100 visti 100 visti e al cartello tieni 3 tieni 3 tieni subito destra 4 3 tieni subito destra 4 20 e al segno sinistra 3 lunga tieni al segno eh lunga tieni e al muro ritarda destra 2 chiude in sinistra 3 tieni occhio eh in ritarda destra 2 subito sinistra 3 tieni in destra 5 lascia in al rei ritarda destra 2 lunghi occhio 30 sinistra 5 tieni e subito destra 5 in sinistra 4 tieni in ritarda destra 3 chiude subito sinistra 2 apre apre in sinistra 5 in sinistra 4 in sinistra 3 chiude chiude questa in al cartello destra 4 tieni in sinistra 5 lunga chiude 3 a rosso chiude 3 a rosso eccola eh eccola qui 50 sinistra 4 tieni molto 30 al cartello destra 4 50 fine rail sinistra 4 tieni 4 tieni 30 a rail ritarda destra 2 ritarda destra 2 in sinistra 2 lunga tieni lunga tieni 30 e a rail ritarda destra 2 chiude 2 chiude dai gabri in sinistra 3 50 visti e a rail ritarda destra 2 chiude eccola 30 occhio sinistra 4 lunga tieni e alla zebra sinistra 3 lunga eccola eh in a rail destra 3 tieni lunga 3 tieni in sinistra 2 occhio occhio 50 sinistri e rail ritarda destra 1 30 sinistra 4 lascia e al zugero sinistra 2 sinistra 2 al zugero 150 visti e fine staccionata sinistra 5 20 e a rail destra 3 3 tieni 3 tieni subito sinistra 3 50 rail ritarda destra 2 scivola destra 2 scivola 30 sinistra 5 lascia in sinistra 4 tieni lunga lunga e subito al cartello destra 3 sconnessa destra 3 sconnessa subito destra 2 gabri subito destra 2 eccola e subito sinistra 2 tieni e subito ritarda destra 2 chiude 50 destri e a rail sinistra 3 tieni 3 tieni eccola in destra 3 50 sinistra 3 tieni in destra 4 in destra 4 in sinistra 5 chiude 3 ai cartelli sporca sporca gabri ok 100 visti e al poggio destra 5 tieni 20 sinistra 3 tieni subito subito destra 3 calmo subito destra 3 subito ai cartelli sinistra 3 chiude 3 chiude chiude 100 sinistra 4 subito destra 5 subito sinistra 4 tieni 30 a rail destra 4 lotta subito sinistra 4 in al cartello destra 2 calmo gabri in destra 3 subito sinistra 3 in a rail ritarda destra 2 chiude 30 e al cartello sinistra 3 lunga apre in destra 2 sporca falla bene questa eh fine bravo gabri bravo dai cazzo dai bravo Ale bravo bravo è fatta la super prova proprio contento goduto come un riccio questa qui bravo 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 bene grazie a tutti riches grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti